Siamo arrivati al parcheggio a pagamento dell'ospedale unico di Sant'Orso. Oggi sull'argomento interviene il coordinatore provinciale del PDL di Vicenza, Sergio Berlato, che afferma che la rabbia dei cittadini è comprensibile perché nemmeno al centro commerciale si paga il ticket, credo altressì che la costruzione di un parcheggio adiacente a quello incriminato sia una provocazione azzeccata che i comuni interessati possono prendere in considerazione. Grazie a tutti.